Non ho veramente niente da commentare su Vannacci, sinceramente, ma proprio mi interessa vedere quello che ha fatto il Parito Democratico e quello che tante persone che non erano il Parito Democratico hanno intenzione di fare insieme adesso per risolvere i problemi delle persone. Salute, lavoro, casa, la pace, questo è il tema, veramente questo è il tema.